Però Hardcore e Jet è un po' una merda Ah, perché non puoi andare in terza persona Eh sì Da un fastidio, quando sei abituato Continua a schiacciare il tasto Non funziona Dai, non sono già schiacciato Non c'è neanche il battito Ma cosa? Ma cosa? Ma quello non c'è neanche il battito Ma quello non c'è neanche il battito Ma quello non c'è neanche il battito Ma in fronte, non c'è neanche il battito Non c'è neanche il battito Dai, vabbè Vaffanemola, mi sembra non c'è neanche il battito Non c'è neanche il battito Che brutta persona C'è neanche il battito Bingo scan C'è presa C'è presa C'è presa C'è presa C'è presa Ah, la più scansione C'è presa C'è presa C'è presa Ah, va C'è presa Ah, cosa sarà C'è presa C'è amposta Dormi C'è presa è arrivato un miglior ligato a posto guarda, malcapitana guarda, malcapitana guarda, malcapitana guarda, malcapitana non mi dia che ti segno mi è andato contro gli alberi non l'è successo ti ho pure sparato guarda, guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda bravo guarda, guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda ma pure te ce ne vorrei trovo guarda 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 Oh, come vissi! No, ho detto niente Ho detto niente Ho detto niente E io non vedo carri Non vedo niente Lo spawn è dove c'è No C'è la cosa è gente E infatti uso Vedo il mister guidato Quando mi schiaccherò E uno in base dov'è appena uscito nel corrente Beh, no, qui diciamo Sto sparando con Col montaglio Aiuto, terra stronzo Terra stronzo Sì Io non so neanche che manovra sto facendo E non ci capisco niente Questo qua è una bel cazzo E non va sempre dietro di me Eccolo, ho visto Vediamo che guarda come balla Oh, la costa Sì Grazie Sti già lo cambiando No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh, vabbè, vabbè Me ne scarica 18 di missile Aspetta che adesso cambio il coso Tanto non serve a un cazzo Comunque a me è Mi ha lasciato a 18 Non sa che il missile di cerchio di colore era Ma mi ha lasciato a 18 Come fai a vedere quanto ti è rimasto? A 8 E appena sali sul mezzo fai start cerchio Oh, no, no Allora, ok Guardi gli alberi del Cristo Oh, no, 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 no... Oh, no, no, no E dov'è? Guardi qua Guardi qua, guardi E' da C'è il mio fiat? C'è il mio fiat? C'è il mio fiat? Mi ha attivato Mi guardate Mi guardate Mi guardate Vai No, l'ho mancato Mi sto Eh già Ma dove cazzo gli sparavi? Gli sparavi via Ah, sparato No, ma devi sparare dietro Devi ammazzare i paratori Ah, giusto che non te li pare Ua Da un fastidio Ah I 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